Credo che Sarebbe abbia sintetizzato quello che è il pensiero, non credo solo dell'amministrazione comunale, ma di tutta la città. Abbiamo visto domenica la grandissima partecipazione di pubblico, prima, durante e dopo la partita, le tante persone che in questi giorni immagino tutti noi abbiamo incontrato per strada, ma sicuramente le ragazze ne hanno incontrate più di noi e i complimenti che le hanno fatti, perché credo che da grandi intenditori imparano molto quali sono, e questa è la differenza tra quelli come lui e quelli come Marco Capanna. Io ho detto, negli ultimi tre anni sicuramente lo scudetto quest'anno non lo vincono, invece l'avete venuto. Quindi questa è la dimostrazione, credo, di quanta storia e di che percorso ci sia dietro questo scudetto. Ne parlavamo con i tanti amici con cui abbiamo condiviso, credo se mi permettete di dirlo, questa avventura ognuno ha in nessun ruolo, con Lucio, con Barra, con Guido, con Marco, con il sindaco, con Sara, con Beppe, insomma, con tutte quelle persone che si sono avvicinate, magari in punta di piedi a questa realtà. Io credo che ci sia stato un grandissimo percorso, una grande vicinanza della città, una grande vicinanza dell'amministrazione comunale.